L'hanno chiamata Valentina il giorno stesso che l'hanno salvata e lei, finalmente libera, ha ringraziato con una danza improvvisata. Valentina è una balena di 45 tonnellate lunga 15 metri e rimasta impigliata in una rete da pesca nel mar Cortez al largo della California e rischiava di morire intrappolata. Per sua fortuna è stata avvistata da un animalista in vacanza con un gruppo di amici. L'uomo, che si chiama provvidenzialmente Fishback, si è tuffato in mare per capire in che modo il cetaceo era rimasto imprigionato e poi, trascinandolo accanto alla barca e tagliando il rete di un piccolo coltello, è riuscito a liberarlo. Una lotta faticosa contro il tempo ma con divertente e lieto fine perché, una volta libera, Valentina si è esibita in salti ed evoluzioni in acqua, regalando uno spettacolo improvvisato, emozionante e molto commovente.